È un segnale importante questo, è un segnale di una squadra che non molla, che ci crede, che rimane dentro la partita e che ultimamente nel finale è riuscita a riacciuffarne più di una, sia ottenendo i tre punti e sia trovando il pareggio in Estremis. Lo sappiamo, conosciamo bene le qualità di questa squadra, ottima individualità, un bel collettivo, sicuramente ci aspetterà una partita difficile, come lo sono state le altre e come lo saranno quelle che mancano, ma abbiamo voglia di fare quello che abbiamo sempre provato a fare, sapendo che delle volte ci siamo riusciti, altre un po' meno e da domani proveremo per l'ennesima volta a cercare di ottenere un risultato importante fuori casa perché sicuramente ne abbiamo fatti meno di quelli che avremmo voluto. Franco è rientrato oggi e si è aggregato con noi, era ancora un po' debole, però ha fatto l'allenamento con noi, abbiamo fuori i tre infortunati che sono Morleo, Anderson e Gionberg e con gli altri siamo tutti a disposizione, in questa settimana ci siamo allenati bene, abbiamo voglia di fare una grande partita perché sappiamo che c'è la necessità di farla, perché affrontiamo un avversario difficile, andiamo fuori casa dove non sempre siamo riusciti a fare quello che avremmo voluto e invece questa volta abbiamo voglia di provarci. Non guardo mai quello che è stato per quello che deve essere, la settimana mi dà tante indicazioni, so di avere dei giocatori a disposizione bravi che possono essere utili sia all'inizio della gara e sia a gara in corso, quindi di volta in volta provo prima a fare le scelte che penso siano le migliori, delle volte anche dopo c'è stata la risposta positiva, altre volte no, ma non credo sia determinato dagli interpreti che scendono in campo, quanto dalla voglia che tutta la squadra ha di provare ad ottenere il massimo da ogni partita. La nostra forza deve essere quella di provare ad andare avanti, provare a migliorare al di là di dove ci troviamo in classifica, poi ovviamente se in dei periodi come siamo stati incapaci di fare, riusciamo ad affidare i risultati positivi, sicuramente la classifica ci sorride, in altri periodi la classifica non ci ha sorriso e forse continuerà a non sorriderci, ma per noi la cosa importante è mantenere l'equilibrio, che è la cosa più difficile da riuscire ad ottenere e sappiamo in che ambiente siamo, ovviamente siamo stati felici di toccare determinate posizioni, ma non ci siamo mai sentiti in dovere di promettere niente, perché sappiamo che il campionato è lungo e non abbiamo voglia di fare promesse, abbiamo voglia di fare delle prestazioni diverse da quelle che abbiamo fatto a Chiavari contro Lentella e di farle migliori rispetto a quelle che abbiamo fatto col Palermo, anche se siamo stati in gara soffrendo per lunghi tratti della partita e in dieci minuti loro sono stati in grado di spaccarla, però credo che avevamo avuto le occasioni per rimetterla in piedi e non ci siamo riusciti. Dobbiamo essere bravi a mantenere questo equilibrio che in un ambiente come il nostro sappiamo che è complicatissimo, ma per farlo c'è la necessità di farlo tutti insieme, noi ovviamente non abbiamo voglia di cambiare nessuno e mai ci proveremo, però all'interno sappiamo che partecipiamo a un campionato difficile, tanto, l'abbiamo sempre saputo e sempre lo sapremo, al di là della posizione che abbiamo alla quindicesima o che avremo alla ventitresima, ci saranno tante partite da qui alla fine, nessuna di queste sarà determinante, cruciale o fondamentale, tutte queste saranno importanti per poi, mi auguro un giorno, ad arrivare veramente a qualche partita determinante. È un posto dove mi legano dei ricordi bellissimi, già sono state dette queste parole la settimana scorsa, ma è la verità, ho passato tre anni a Palermo e tre anni nel Perugia, è stato l'inizio di quello che poi mi ha permesso di fare tutto quello che ho fatto, sono stato benissimo con la città, con i tifosi, con l'ambiente, insomma un posto a cui mi legano dei ricordi bellissimi e che domani mi vedrà avversario, però ovviamente adesso sono cambiati i ruoli e dopo l'emozione che sicuramente all'inizio ci sarà, tutto passerà e proveremo a ottenere un risultato importante e difficile.